signore e signori trader sede investitori buongiorno buon inizio di settimana e benvenuti all'intraday club analisi contesto e pre market lunedì 11 dicembre anche oggi insieme ad analizzare i principali sottostanti americani per farci trovare pronti il suono della campanella delle 15 e 30 partiamo come sempre con un recap in questo caso della seduta di venerdì anche perché proprio con venerdì abbiamo visto il passaggio di consegne tra la scadenza di dicembre future dell'S&P ma anche del nasdaq alla scadenza di marzo quindi da oggi in poi andremo ad analizzare a tradare la scadenza di marzo quella corrente in questa settimana le due scadenze andranno a coesistere quindi attenzione che è sempre una settimana un po particolare per la cronaca infatti possiamo osservare che il future di marzo una giornata di venerdì ha scambiato 664 mila scambi e 15 punti tra minimo e massimo andiamo ad osservare in dettaglio come si è mosso il titolo apertura in area 50 non è che ci sia stato un grande movimento parte l'ha già stato fatto in pre market prima mezz'oretta tendenzialmente debole il titolo sembrava voler bucare a ribasso la mega area dei 2650 in realtà salvo le 16 30 poi di richiamo le 17 30 è proseguita una tendenza rialzista e come possiamo osservare per tutta la fascia serale il titolo ha finto continuamente di voler bucare questa mega area ma poi sempre stato respinto e come risposta è andato a chiudere sui massimi di giornata sull'area psicologica dei 2655 diamo un'occhiata anche al nasdaq sempre scadenza marzo 180 mila scambi e 59 punti tra minimo e massimo anche in questo caso la seduta non è che sia stata molto degna di nota non c'è il leggero calo delle 16 30 che abbiamo visto sulla sull'SMP c'è stato invece sulla candela delle 17 30 ma il titolo è sempre rimasto sopra la mega area dei 6350 finale un po più debole sui minimi di giornata in area 56 e poi il titolo è andato a chiudere con molta lateralità nella fascia serale in area 6360 nessun trade da parte nostra perché come ogni venerdì noi dell'intraday club non tradiamo accantoniamo la scorsa settimana diamo uno sguardo a questa ci avviciniamo sempre di più al periodo natalizio quindi volumi in flessione fisiologica nessuna news macro per oggi quindi potremo potremo tradare tranquillamente i nostri sottostanti andiamo quindi a dare un'occhiata a quello che è successo dalla mezzanotte quindi la riapertura dopo la pausa del weekend fino al pre open attuale candela 5 minuti ci spostiamo invece su quale da 1 titolo che come abbiamo visto aveva chiuso a ridosso dell'area psicologica dei 2655 in verità leggermente sotto in area 2654 parte l'asiatico leggero contesto positivo sprint iniziale ma poi il titolo non è che si sia mai scostato di tanti punti come possiamo osservare il range di oscillazione è limitato a tre punti e mezzo apre europeo anche in questo caso bassi scambi nessun movimento è diciamo degno di nota sempre in un contesto rialzista ma veramente una manciata di punti segnaliamo appena prima delle 14 il passaggio piuttosto repentino dare a 57 fino al 52 25 è molto imputabile a quello che stiamo vivendo in queste ore a new york c'è stata una un'esplosione a times square quindi ovviamente l'allarme crea sempre un po di tensione sui mercati la cosa è appena successa quindi non si sa ancora niente ma come possiamo già osservare il titolo si è ripreso e quindi probabilmente andrà ad aprire agli stessi valori che prima di questa brutta notizia che ci è arrivata quindi un'apertura tra area 56 e area 57 quindi alla luce di queste informazioni andiamo a tracciare quelle che possono essere delle proiezioni operative dei potenziali ingressi da effettuare nella vostra prima ora di trading 15 30 e 16 30 ricordando che sono operazioni solo a scopo dimostrativo da effettuare sulla vostra piattaforma didattica simulata scusate allora a livello operativo come ci muoviamo abbiamo visto a parte questo piccolo calo dell'ultima ora un contesto leggermente rialzista ma comunque estremamente laterale oggi ci sarà ancora dei volumi che sono frammentati dalla scadenza di dicembre di marzo quindi difficilmente andremo sopra il milione di scambi effettuati anche la volatilità sarà bassissima salvo sorprese quindi in queste tipologie di giornate non si fa né sell stop né buy stop a prescindere dal contesto ci si va ad ancorare sulle aree psicologiche e si cerca spazio in un movimento che siano i più puliti possibili in termini di movimento quindi dobbiamo semplicemente circoscrivere il titolo quando ci sono giornate come queste un sell su inversione volumetrica in area 2660 teniamo comunque un più 6 meno 6 non tanto perché il mercato sia volatile ma proprio per questa settimana particolare della convivenza delle due scadenze quindi potrebbero esserci dinamiche un pochettino più sporche dall'altro canto un long invece su inversione volumetrica sfruttiamo la mega aree dei 2550 anche in questo caso con un più 6 meno 6 per coloro che invece sono all'interno del programma dell'intraday club che hanno un pochettino più di esperienza anche in questo caso se dovessimo vedere il titolo in apertura 5750 o comunque uno stazionamento in area 5750 per poi prendere un movimento ribassista un buy di inversione lo possiamo tranquillamente alzare sull'area psicologica dei 52 e 50 quindi escluso il range anche qua più 6 meno 6 escluso il range di movimento titolo 50 60 se vediamo che poi durante la seduta si va a posizionare su altri livelli vale sempre il concetto di cavalcata di 5 punti e di soglia psicologica comunque di tutto questo e tanto altro ne parleremo stasera in diretta con gli amici anche del trading camp multiday 19 15 19 45 poi in prima serata ci sarà il primo speciale di fine anno infatti nel momento in cui ci stiamo avvicinando anche alla chiusura diciamo delle nostre iniziative ci sarà il top trader matteo nelli con un recap globale annuale di tutti quelli che sono stati i risultati per quanto riguarda il commodity spread trading come sempre nel nostro stile andremo a vedere le migliori operazioni come le abbiamo trattate e gestite ma anche le operazioni che sono andate meno bene perché anche queste fanno parte del nostro lavoro quindi non mancate ora entro in modalità zen inizio a prepararmi per l'apertura ricordando che dietro ogni sconfitta si nasconde il seme della vittoria un saluto da stefano corvi ed i 3 di alfa for all